Buon Natale a tutti, auguri! Buon Natale a tutti, auguri! Buonasera, buonasera, venite a fare un giro in carrozza qui a Cecina nella piazza con la carrozza di Babbo Natale, le offerte andranno devolute al canile di Bibbona, il link sul Facebook e come Canile di Cecina, domani saremo a Cecina Mare. Buon Natale a tutti i nostri amici. Buon Natale a tutti i nostri amici. Buon Natale a tutti i nostri amici. Grazie a tutti.